Il protagonista di questo progetto è la canna da zucchero Lux della Mistrico Filati. Sono gomitoli da 50 grammi e il filo è molto bello e molto morbido. Come vedete presenta dei piccoli punti luce che sono il lurex metallico. È composto da 97% di viscosa da canna da zucchero, quindi molto morbido anche, e 3% di poliestere metallico. Io sto usando il colore un arancione scuro che batte più sul colore terra bruciata. E poi sto usando l'uncinetto numero 4. È consigliato usare anche l'uncinetto del 3,5 che va dal 3,5 al 4. Siccome devo realizzare un coprispalla e voglio renderlo più morbido, sto usando il numero 4. Adesso possiamo iniziare con il nostro progetto. Questa volta inizieremo il nostro progetto con degli occhielli, che sono composti da catenelle e maglia alta. Questo per non far venire il bordo molto tirato. E iniziamo a lavorare 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, vado sulla prima catenella e lavoro una maglia alta. Di nuovo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, vado sulla prima catenella e lavoro una maglia alta. 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Maglia alta sulla prima catenella. Dobbiamo procedere questo per un totale di 102 centimetri. Di nuovo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. E di nuovo maglia alta sulla catenella. Vado avanti per un totale di 102 centimetri. Se voi la volete più lunga, andate avanti con gli occhielli. Realizzati 102 centimetri corrispondono a 55 occhielli. Adesso iniziamo la nostra lavorazione. E iniziamo facendo 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta. 1, 2 e 3. In ogni occhiello lavoreremo un semplice punto che è il punto V. Che consiste in una maglia alta. Quindi entro nell'occhiello, lavoro la maglia alta. Catenella, rientro, maglia alta. Vado nell'occhiello a fianco, sempre all'interno. Vedete? Apriamo l'occhiello e facciamo maglia alta, catenella e maglia alta. A fianco, all'interno dell'occhiello, facciamo la maglia alta, catenella e maglia alta. Dobbiamo proseguire questo per tutta la nostra riga e dobbiamo terminare sempre con una maglia alta. Vado a fianco e realizzo il punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Ci vediamo al termine di tutto il nostro giro. Realizzati i punti V, adesso sull'ultimo occhiello lavoro l'ultimo punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. E una maglia alta sulla catenella d'inizio. Questo per far venire il bordo dritto. Abbiamo finito il primo giro. Adesso dobbiamo lavorare il secondo giro uguale al primo. Quindi all'interno del nostro punto V lavoriamo un altro punto V. Iniziamo sempre con tre catenelle. Vado all'interno e lavoro una maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, catenella e maglia alta. E a fianco continuo di nuovo con la maglia alta, catenella e maglia alta. Proseguo questo per tutta la riga e dobbiamo ripetere questo motivo altre due volte. Un totale di quattro volte. Quindi dobbiamo proseguire con i punti V per un totale di quattro giri. E terminiamo sempre con una maglia alta. Comunque andata avanti vi faccio rivedere come iniziare il giro. Sono arrivata dove ho l'ultimo punto V e all'interno lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Finisco sulla terza catenella con una maglia alta. Quindi il punto non è difficile. Dobbiamo ripetere questo punto dei punti V per quattro volte. Quindi giro il lavoro. Questo è il giro numero tre. Inizio sempre con tre catenelle. E all'interno di ogni punto V ripeto il punto. Quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Vado all'interno del punto V a fianco, faccio maglia alta, catenella e maglia alta. Affianco maglia alta, catenella e maglia alta e proseguo questo per tutto il mio giro. Ho lavorato i quattro giri di punti V. Adesso devo lavorare in ogni punto V tre maglie alte. Quindi la sequenza del nostro punto fantasia è quattro giri di punti V e un giro dove all'interno lavoreremo tre maglie alte. Quindi giro il lavoro. Inizio sempre con tre catenelle. Uno, due e tre. All'interno qui lavoro tre maglie alte. Uno, due e tre. Affianco di nuovo. All'interno lavoro tre maglie alte. Uno, due e tre. Vado a fianco e all'interno del punto V lavoro tre maglie alte. E proseguo questo fino a terminare il nostro giro. Dal giro successivo riprendiamo la lavorazione dei punti V. Ho terminato tre maglie alte all'interno del punto V. Quindi una volta che abbiamo terminato le tre maglie alte, dobbiamo iniziare di nuovo a lavorare quattro giri di punti V. E giriamo sempre il nostro lavoro. Iniziamo sempre con una maglia alta che è sostituita da tre catenelle. Al centro delle tre maglie alte, quindi sulla seconda, lavoro il punto V. Che consiste in una maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a fianco e sulla seconda maglia alta lavoro il punto V. Vado a fianco e lavoro il punto V. Come vedete è un punto molto semplice. I giri che si ripetono sono sempre quelli. Vado sempre all'interno della maglia alta centrale e lavoro il punto V. Quindi dobbiamo ripetere il punto V altre tre volte. Una volta che abbiamo finito i nostri quattro giri, il quinto giro dobbiamo lavorare tre maglie alte in ogni punto V. Quindi proseguite questo per la vostra lunghezza. Vi faccio rivedere. Finito il primo giro, dobbiamo iniziare il secondo giro. Quindi sempre uguale, con tre catenelle e all'interno del punto V lavoro il punto V. Maglia alta, catenella, maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, catenella e maglia alta. Andate avanti per quattro giri, il quinto giro ripetete le tre maglie alte. Quindi proseguite questo e ci vediamo al termine di tutto il nostro lavoro. Ecco come si presenta il mio coprispalle. Una volta che ho ripetuto sempre il motivo, che consiste in lavorare quattro giri il punto V, che sono delle maglie alte, una catenella e maglia alta, e il quinto giro di tre maglie alte all'interno del punto V. Quindi sono andata avanti con questa lavorazione molto semplice e molto carina, per 33 cm circa. Io non l'ho fatta molto lunga, perché la mia intenzione di indossare questo coprispalle è sui vestitini eleganti e sulle canotte le sere d'estate. Ho terminato con le tre maglie alte all'interno del punto V. E adesso rifiniamo la parte finale. E facciamo in questo modo. Una volta che abbiamo finito, faccio tre catenelle, uno, due e tre, filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia di base e lavoro una maglia alta. Adesso vado sulla terza maglia alta e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, uno, due e tre, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Chiudo nella terza maglia alta sottostante con una maglia bassa. 3 catenelle, uno, due e tre, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, maglia alta. Qui ho le tre maglie alte, uno, due e tre, sulla terza maglia bassa. Una lavorazione molto semplice. Maglia alta, vado sulla terza delle tre maglie alte, maglia bassa. 3 catenelle, maglia alta all'interno dello stesso punto e le tre maglie alte sull'ultima maglia bassa. Proseguiamo questo per tutta la nostra lavorazione. Ecco come si presenta il nostro coprispalle una volta che abbiamo rifinito il tutto. Quando terminate la parte delle tre catenelle e la maglia alta, chiudete sull'ultima catenella delle tre catenelle con una maglia bassa. Adesso piegate a metà. Se volete usare questo accessorio come coprispalle, io a questo punto dall'esterno verso l'interno ho misurato 9 cm. Non la faccio più stretta perché poi mi dà la comodità per poterla indossare. Quindi sia da questa parte che da questa parte ho preso la stessa misura, 9 cm. E adesso devo cucire. Se invece voi volete usare questo accessorio come una stola, andate avanti con la lavorazione, facendolo più largo, più lungo di quanto volete, è già pronta. Adesso invece io devo cucire con uncinetto e filo. Quindi faccio delle semplici maglie basse, entro da un punto all'altro, in questo modo. Faccio un piccolo cappietto e entro con il filo e faccio una maglia bassa. Nascondo anche la codina, lavoro contemporaneamente anche la codina. Entro all'interno di una catenella del davanti e la catenella della parte del dietro e faccio delle maglie basse. Entro a questo punto una catenella del davanti e una del dietro e chiudo fino ad arrivare dove ho il segno. Chiudo da questa parte e anche dall'altra parte. Una volta fatto questo, dobbiamo rifinire anche il bordo della manica e lo rifiniamo come abbiamo fatto la parte inferiore. Ecco come si presenta con la cucitura. Adesso, una volta che abbiamo cucito il tutto, giriamo dal diritto e dal sottomanica, io già mi sono portata avanti, ho fatto la lavorazione come abbiamo fatto all'inizio e alla fine. Quindi, vado dove ho un punto disponibile, lavoro 3 catenelle, 1 maglia alta. Vado dove ho un punto disponibile, lavoro maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e maglia alta all'interno. Quindi, una lavorazione molto semplice. Si ripete, 1, 2 e 3 e proseguo questo da questa parte e anche dall'altra parte. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è stato di aiuto, scrivetemi, mettete un like e condividete i miei tutorial. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao! Grazie per la visione e ciao!